Il diritto all'uso delle tecnologie non si applica solo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni ma serve anche a garantire l'effettività dei diritti civili e politici. Questo consente di garantire la partecipazione civica e di migliorare la qualità delle decisioni assunte dalle istituzioni. A livello europeo ogni cittadina e ogni cittadino possono sottoscrivere online delle petizioni individualmente o in associazione con altri cittadini ed indirizzarle alle istituzioni europee. In Italia invece è possibile partecipare alle consultazioni pubbliche che vengono indette dalle pubbliche amministrazioni e che consistono nella messa a disposizione online di schemi di atti o di decisioni che vengono aperte ai contributi dei cittadini che con le loro critiche e i loro suggerimenti possono sicuramente migliorarli. Ovviamente queste consultazioni devono svolgersi nel rispetto di una serie di indicazioni, di linee guide, di direttive che le rendano effettive ad esempio garantendo che le persone abbiano il tempo necessario per partecipare e quindi che i tempi di una consultazione non siano eccessivamente ristretti. Recentemente poi l'utilizzo di strumenti come speed e firma digitale è stato introdotto per garantire l'esercizio di alcuni diritti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione come quello di sostenere un'iniziativa referendaria o di aderire a un progetto di legge di iniziativa popolare. Insomma ormai il cittadino digitale può fare tutto online ad eccezione del voto.